Buona giornata e ben ritornati nel risultato di Teleradio Pace questa è la seconda edizione del Tg Rassegna Stampa di oggi 12 di dicembre 12-12 del 2023 siamo quindi arrivati al secondo giorno di questa seconda settimana intera seconda settimana di quaresima di quaresima sì di avvento vabbè ogni tanto straparlo ma non c'è problema insomma qualcuno mi corregge sempre dalla regia e quindi ringrazio Paolo Solari oggi appunto dicevo seconda settimana di avvento e siamo appunto a martedì quindi ancora nella prima parte di questa settimana ormai sentiamo già il profumo del Natale sentiamo soprattutto anche l'avvicinarsi del sostizio d'inverno infatti le giornate sono sempre più corte sempre più brevi e gli spazi dedicati diciamo alle tenebre alla notte sono sicuramente superiori e domani raggiungeremo quello che era un po' l'apice tradizionale con la giornata più corta per la tradizione quella di Santa Lucia in realtà sappiamo che le giornate si accorciano fino al 21-22 di dicembre per poi piano piano andare ad allungarsi quindi ancora pochi giorni poi inizieremo a risalire un po' la china e dal punto di vista meteorologico abbiamo a che fare con un periodo di tempo come dicevo anche nella prima edizione un po' autunnale è ritornato l'autunno quindi abbiamo abbandonato le temperature rigide dei giorni scorsi anche la neve sui nostri appennini si sta sciogliendo però è una fase molto molto veloce per fortuna temporanea perché poi nel weekend le temperature andranno andranno diminuendo per fortuna perché comunque questa fase autunnale è veramente spiacevole con mare che torna ad essere piuttosto mosso queste nuvole che non se ne vanno né da una parte né dall'altra pioggia se ne vede molto poca nel pomeriggio invece attenzione perché le precipitazioni potranno essere più diffuse in particolare sull'entroterra del appunto l'entroterra del levante visto che siamo a fare un po' il giro della liguria con le immagini che ci arrivano in diretta via webcam da molte parti della nostra riviera della riviera di levante ma anche in quella di ponente andiamo allora a vedere già le temperature minime registrate nella notte che sono temperature molto alte addirittura il doppio forse di temperatura che abbiamo visto qualche giorno fa cioè sulla costa abbiamo avuto delle minime nel weekend intorno ai 6 gradi questa questa notte siamo andando non siamo andati sotto i 12 gradi quindi temperature doppie rispetto a quelle che abbiamo visto nello scorso fine settimana iniziando dal monte bue che abbiamo visto scendere molto molto sotto lo zero meno sei gradi meno sette gradi oggi invece la temperatura minima minima è stata di 5 gradi punto 7 ma sopra lo zero quindi qua addirittura più di 10 gradi in più rispetto a qualche giorno fa poi 6 gradi punto 4 al prato della cipolla 4 gradi 8 a rocca d'aveto scendendo invece nella basso strato nel diciamo al suolo le temperature sono più fredde più rigide quindi c'è l'inversione termica che è diciamo così abbastanza normale per questi periodi maccaiosi infatti al suolo in quota a 700 metri a rezzoglio basso la temperatura è scesa fino a un grado punto 3 e un grado punto 3 e a cabane rezzoglio ha fatto anche di meglio un grado punto 1 però sono le uniche due località con temperature così rigide perché scendendo in valle sur la troviamo 9 gradi punto 4 a bel piano e 11 gradi e 3 a pontori in val graveglia 7 gradi e 6 a favare di malvaro che sono temperature quasi simili a quelle che abbiamo trovato sulle alture e poi 6 gradi punto 4 a pezzo nasca di moconesi 9 gradi punto 8 a triboni a piandei preti andando a san colombano 10 gradi punto 1 mentre a villa oneto sempre nel comunismo colombano 10 gradi punto 9 e veniamo alla costa alla riviera dove la temperatura non è scesa sotto i 12 gradi e mezzo a santa margherita ligure sotto gli 11 gradi 1 a rapallo sotto gli 11 gradi e 2 a san pier di canne a chiavari non pervenuta la temperatura di a no si lavagna berissi località berissi 10 gradi e a sestri levante 10 gradi punto 8 ad imperia sia di imperia golfo paradiso a ruta di camogli con 11 gradi e 6 a nervi addirittura 13 gradi e 8 anche a genova non ha fatto freddo assolutamente per esempio a marassi di 11 gradi e 2 a pra 13 gradi e 4 quindi temperature molto molto superiori alla media stagionale del periodo a vado ligure quindi savona 11 gradi ad imperia adesso sì che imperia 10 gradi punto 1 a 20 miglia 10 gradi punto 6 caldo anche nell'estremo levante ligure a la spezia 14 gradi punto 2 quindi poi vedremo le previsioni per oggi però abbiamo già parlato di una pioggia che inizierà a farsi un po più seria nel corso della giornata in particolare nel pomeriggio dovrebbe piovere un po ovunque su centro elevante soprattutto però sugli entroterra con qualche sgocciolio anche sulla costa mentre invece la giornata sarà meno piovosa sicuramente a ponente dove addirittura potremo vedere anche delle schiarite anche se non proprio ampie domani stesso tipo di tempo rispetto a oggi però le temperature inizieranno un po a calare per poi calare decisamente verso il weekend da giovedì la situazione dovrebbe tornare ad essere più soleggiata un po su tutta la liguria quindi giovedì dovremo avere una svolta e il sole poi dovrebbe accompagnarci dovrebbe accompagnarci anche per il resto di questa settimana andiamo a vedere quali sono grazie a paolo solari che ci ha fatto fare questo giro della liguria e abbiamo visto che comunque le nuvole ci sono praticamente da tutte le parti santo del giorno oggi beh il più che santo è un'apparizione l'anniversario dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Guadalupe stiamo parlando appunto dell'apparizione del 9 e 12 di dicembre addirittura appunto per tre giorni apparve a Juan Diego un aziego convertito chiedendogli di far erigere un santuario in suo onore e appunto è uno dei templi mariani più importanti al mondo sicuramente più importante dell'America latina ma anche dell'America del nord appunto il santuario di Guadalupe e poi andiamo invece a San Spiridione di Trimitonte San Simone Oa medico sindaco e martire Beato Corrado di Ofida Beato Bartolo Buompedoni di San Gimignano Beato Giacomo Capocci di Daviterbo San Corentino di Kiper San Finiano di Clonar San Vicelino di Oldenburg e ancora i martiri Pimaco e Alessandro San Israele di Dorà sacerdote Beato Pio Bartosic sacerdote e martire auguri naturalmente a tutti coloro che oggi festeggiano il loro diciamo santo patrono il loro nomastico e coloro che oggi invece festeggiano una lieta ricorrenza un anniversario che compiono gli anni in questa giornata giornata caratterizzata ormai dalle ultime fasi della famosa Cop 28 che molti giornali oggi definiscono Flop 28 perché in realtà da questa conferenza sul clima si uscirà con un nulla di fatto nulla di fatto che forse potevamo prevedere tranquillamente sarebbe stata ancora più facile delle previsioni meteo di questa settimana prevedere che questa conferenza non portava a nulla non ci sono attori importanti come la Cina e gli Stati Uniti si è diciamo svolta in una zona dove il petrolio è la prima fonte di approvvigionamento energetico ma anche la prima fonte di sostentamento insomma gli Emirati a Dubai insomma il Qatar insomma queste zone sicuramente non sono ricche per altro che non per il petrolio quindi si chiedeva a questi Stati che ospitavano questa conferenza di rinunciare al petrolio ma neanche per idea dicono oggi e infatti petrolio per altri 30 anni quindi insomma la nostra generazione la mia e quella di Paolo Solari non vedrà mai la fine dei carburanti fossili rabbia del fronte anti idrocarburi che comprende Unione Europea e America Latina per loro non basta l'impegno ad azzerare le emissioni nette intorno al 2050 anzi loro dicono ma no perché non combattiamo la CO2 più che il petrolio quindi appunto hanno messo addirittura hanno inventato una macchina che si mangia la CO2 piuttosto che fare a meno del petrolio la conferenza di Dubai dovrebbe chiudersi oggi ma andrà avanti oltranza anche perché molti paesi tra cui l'Italia potrebbero porre un veto alle conclusioni del COP28 quindi siamo veramente un po' al paradosso tra gli obiettivi fissati dall'ultima bozza di sintesi di flop28 salta l'eliminazione dei combustibili fossili successo per le petropotenze e poi vediamo appunto invece questo qua c'è poco da scherzare chiaramente questo panorama terribile la guerra in Terra Santa fallisce il piano di mediazione russo anche Putin aveva tentato di mettere d'accordo le due parti cioè Hamas e Israele Hamas sugli ostaggi no anche a Putin e il popolo della pace chiede nuovi spazi e subito tregue nei giorni scorsi abbiamo mandato in onda una trasmissione proprio centrata sulla guerra in Terra Santa e sulle guerre che in questo momento insanguinano il mondo una diretta di tutte le televisioni aderenti al circuito corallo appunto tra cui c'è Teleradio Pace e in questa diretta è stato anche intervistato insomma intervistato uno dei protagonisti diciamo della vita della Terra Santa in questi anni perché è stato primo custode della Terra Santa e ora è cardinale è arcivescovo si tratta del cardinale Pizzaballa per una pace e duratura occorrono due stati per due popoli quindi ascoltiamo il suo punto di vista Pace in Terra interessante questa affermazione tanto desiderata quanto difficile da realizzare per il patriarca di Gerusalemme dei latini cardinal Pier Battista Pizzaballa la presenza in quella porzione di terra di diverse culture e religioni è sempre stato un arricchimento il confronto con gli altri ti aiuta a rimettere in fuoco la tua fede quello che tu sei il tuo rapporto con Dio in maniera totalmente nuova e ti apre nuove prospettive anche per il porporato un percorso di pace può essere possibile solo ponendo fine all'occupazione dei territori palestinesi e dando a questo popolo una prospettiva chiara e sicura insieme a Israele che ha diritto di esistere sacro santo diritto di esistere e che nessuno mette in discussione ci deve essere anche lo stesso diritto per i palestinesi come popolo e come nazione come Stato la pace è ancora lontana la guerra ha mietuto migliaia di vittime tra cui molti bambini i cristiani si sono raccolti in due centri circa 200 in un complesso ortodosso e 700 in una struttura cattolica entrambi a nord di Gaza le condizioni di sopravvivenza sono molto provanti naturalmente tutte le infrastrutture sono distrutte non c'è acqua non c'è elettricità non c'è nulla e questi ultimi giorni scalseggiano anche facciamo fatica a fare arrivare il necessario di acqua di viveri soprattutto di gasolio che è prezioso per il generatore che produce elettricità senza elettricità tutto si ferma per il cardinal Pizzaballa il Natale acquista significato se si ha la capacità di vedere il bene anche nelle situazioni più tragiche dove c'è qualcuno che dona la vita perché Natale è la vita che cresce è un gesto di amore che si compie ecco lì è Natale e anche qui nonostante tutto ancora si compie Natale non sarà il Natale bombastico meraviglioso che stravolge la realtà ma è una realtà che cresce ed è una realtà che non permette alle tenebre di avvolgere tutto ritorniamo sulla prima pagina di avvenire dove ci eravamo un attimo fermati per ascoltare le parole del cardinale Pizzaballa e parliamo invece delle parole di Papa Francesco sui migranti migranti bundi regolari e Papa Francesco dice sono persone ai prefetti in vita a integrare gli arrivati appunto con la nostra cultura con la nostra con la nostra società per Frontex in Europa picco dal 2016 ad oggi e poi andiamo al MES congelato il MES manovra in stallo le mosse del governo e c'è anche un editoriale questa mattina firma di Marco Iasevoli una manovra senza camere finanziarie a Parlamento e premierato e poi ancora emergenza lavoro energia il mercato libero condanne col center e ancora assolti viole profumo per la vicenda dei Monti di Paschi di Siena spinta al rilancio di questa banca senese allora andiamo adesso invece a vedere la prima pagina del secolo XIX che titola migranti zero fondi extra bocciata la proposta della Commissione Europea per avere 4 miliardi aggiuntivi richiesti dall'Italia per la gestione dei migranti arrivati compiosamente nei giorni nei mesi scorsi polemiche sui tagli del governo agli over 16 Schlein e Conte dicono la maggioranza fa cassa sui deboli mentre Meloni attacca o meglio risponde alla Schlein al PD che ieri l'aveva soprattutto bacchettata sulla questione del MES e appunto la Meloni ha detto perché non l'avete approvato voi non l'avete appunto dato voi l'ok nei mesi in cui eravate al governo negli anni in cui eravate al governo Liguria allarme del CEIS minore accoglienza rischia di andare in crisi cambiate appunto le regole da parte del governo e poi regioni nodi tagliani al terzo mandato ma Totti dice in Liguria si può e quindi evidentemente lui ne vuole approfittare si apre così la partita delle elezioni dei governatori impennata di rapine e furti Liguria tra le più colpite il rapporto del Viminale e dell'Associazione del Commercio e poi ancora vediamo la vignetta di Rolli sui combustibili fossili vedete che il fossile questa volta è l'uomo e non è un non è un dinosauro COP28 o meglio come molti l'hanno chiamata FLOP28 cede ai produttori di petrolio niente data di addio alle fonti fossili poi c'è il processo sul crollo del Ponte Morandi via 100 testimoni vengono stralciati e la sentenza quindi arriva di più velocemente sentenza più vicina ancora la questione dei Monti di Panschi di Siena vicenda penosa e poi Zelensky negli Stati Uniti Putin va fermato o l'Europa rischia e oggi attenzione perché Zelensky sarà a Washington e verrà appunto accolto e ascoltato da Biden poi non si sa bene chi ascolterà l'altro perché forse anche Biden avrà delle cose da dire a Zelensky poi andiamo al Palazzo Ducale di Genova dove Ilaria Bonacossa sarà la nuova direttrice a partire dal gennaio 2024 sempre Genova ricorda il mito di Gianluca Vialli che purtroppo se ne è andato tanto presto Genova ricorda il mito evento di beneficenza l'8 di gennaio per la sua fondazione e poi ancora Tellaro la chiesa in salvo grazie alle risorse dei VIP e la frazione di Lerici si mobilita Tellaro è una delle perle più preziose più belle della nostra regione davvero un paese meraviglioso che si trova proprio all'estremo levante del Golfo della Spezia adesso andiamo invece nelle pagine interne del secolo XIX ritorniamo nell'entroterra ricordiamo la questione del famoso Voltino ormai famoso come Voltino di Mezzanigo poi insomma la strettoia sulla 586 in frazione Borgonovo struttura del Voltino di Velta da un camion strada chiusa per l'ennesima volta insomma è successo quello che già abbiamo visto anche d'estate nuove proteste e polemiche a Borgonovo di Mezzanigo i sindaci i tempi ormai sono maturi per l'abbattimento e quest'opera dovrebbe entrare in esecuzione addirittura nel prossimo anno quindi trovare finalmente la soluzione definitiva per questa per questa piccola strettoia che ogni volta un camion riesce a danneggiare nuovamente con la chiusura eccetera quindi qua vediamo nella foto che ci sta proponendo Paolo Solari proprio i vigili del fuoco all'opera per questo nuovo crollo poi andiamo invece a Recco dal Mezzanigo a Recco quindi andiamo sul lungomare Bettolo nuovi lavori sul lungomare il comune corre ai ripari per disporre altri parcheggi viene ampliata l'area del cantiere appunto sul lungomare di Recco e poi ancora Rapallo il posteggio del Poggiolino in gennaio ritornerà un'area riservata ai mezzi pesanti la Carel di Rapallo verso la soluzione quindi la porzione che era stata assegnata ad ICLAS per il parcheggio dei visitatori durante il periodo di lavoro e di ampliamenti che operano da parte del cortile della struttura adesso viene occupata dai mezzi di GioStrae che hanno collocato la loro attrazione sul lungomare ma presto ritornerà appunto per i mezzi pesanti quindi un'area di sosta per coloro che si muovono attraverso la 12 a Santa Margherita Ligure è stato approvato il progetto per il riaffecimento del cimitero centrale quindi parte l'intervento al cimitero centrale di Santa Margherita Ligure è stato approvato il progetto esecutivo e secondo il progetto si interverrà principalmente sulle parti comuni che possono costituire un pericolo per i visitatori e ancora il depopolamento peste suina due battute di caccia in Val Daveto a Carasco l'ultimo saluto a Bau della Piazzetta si è spento Gianni Bau titolare del bar La Piazzetta aveva 80 anni funerali oggi alle 15 nella chiesa di San Marzano a Carasco addio anche a Gelsino Gelsino Boitano titolare dell'officina contro la carrozzeria di Monleone a 81 anni appunto il funerale è stato celebrato ieri a Cicagna rinviata la messa con il vescovo De Vasini l'anfas di Villa Gimelli rinvia dopo l'epifania la messa del vescovo appunto di Chiavari e la festa che erano previste per oggi infatti in questi giorni è mancato Francesco ospite storico della struttura di Santa Margherita Ligure e il suo funerale sarà celebrato proprio oggi pomeriggio quindi evidentemente questa festa insomma non poteva essere effettuata nella stessa giornata e quindi è stata rinviata dopo le vacanze di Natale ancora dal secolo XIX di oggi si parla ancora di una piaga che ci sta attanellando da molti molti anni c'è quella dei femminicidi che sono balzati agli onori delle cronache prepotentemente in questo ultimo periodo con l'omicidio di Giulia Cecchettini e andiamo a leggere Giulia storia di un femminicidio con ragazzi non ritenuti a rischio pariamo a danzare sotto la pioggia futura lavagna raccoglie l'appello di Gino Cecchettin appunto il papà della ragazza uccisa confronto con la psicologa può capitare a chiunque il patriarcato non spiega tutti tanti motivi quindi si entra un po' anche al di dentro questo momento di confronto grazie anche all'intervento della psicologa Erika Pancheri e poi ancora disagio giovanile cultura della violenza incontro in comune a Camogli con gli studenti del territorio vediamo appunto la sala consigliare del municipio camogliese il progetto si articola su dieci appuntamenti che mettono al centro le nuove generazioni e poi ancora Camogli ricorda Narges Muhammadì e Masha Amini sono le due ragazze che hanno pagato una con la vita l'altra con la prigionia la loro voglia di libertà e comunque la richiesta di diritti umani anche per le donne in Iran Panchina Viola in prossimità del Belvedere di Camogli proprio per ricordare queste due ragazze ricordiamo che Narges Muhammadì ha vinto il premio Nobel per la pace ma non è potuta andare chiaramente a ritirarlo perché è carcerata appunto nelle prigioni iraniane andiamo invece a Chiavari con una buona notizia per i lavoratori dell'Ailex ex Lames bonus da 400 euro sotto l'albero dono di Ailex ai dipendenti la notizia annunciata ieri pomeriggio durante la festa aziendale di fine anno che quindi è diventata davvero una festa perché insomma era una notizia molto lieta per i dipendenti pagliardi investiamo sui lavoratori e per il futuro siamo pronti a nuove sfide in effetti l'Ailex è una azienda giapponese quindi evidentemente non si comporta come le aziende italiane il 2023 si chiude con un fatturato di oltre 73 milioni di euro buone le prospettive e poi ancora lotta rumore ferroviario spunta il progetto pilota privo di impatto ambientale ricorderete la guerra diciamo la lotta di inizio anno per diciamo così fermare quel progetto che voleva delle barriere altissime lungo la linea ferroviaria che sarebbe proprio stata una divisione netta tra la città e il lungomare invece si riapre la questione Chiavari fermamente contraria all'installazione di barriere potrebbe diventare città pilota per un progetto di riduzione dell'inquinamento acustico che parte invece dai binari rialza la testa uno dei temi che a Chiavari unitamente al depuratore ha sollevato più polemiche appunto invece di intervenire con dei pannelli che poi i pannelli fonosorbenti alzano il rumore non lo eliminano cioè quindi lo portano più in alto si sta con quello abbiamo visto con le barriere fonosorbenti dell'autostrada in realtà il rumore si alza e basta cioè non è che viene eliminato e invece qua si parla di cambiare i binari di mettere dei binari che possano fare meno rumore e naturalmente questo potrebbe essere un progetto pilota rivoluzionario da questo punto di vista se esistono questi binari perché poi a volte si dicono cose un po' a caso campagna vaccinale Asle potenzia l'offerta a Chiavari mentre invece sempre a Chiavari la caserma di Caperana nuovi corsi formativi pronto il calendario dei nuovi corsi ospitati della scuola telecomunicazione della scuola telecomunicazione di Chiavari ricordiamo che al centro c'è sempre un tema importantissimo per la sicurezza nazionale ma anche per la sicurezza dei cittadini come la cyber security perché molte truffe lo abbiamo visto anche recentemente avvengono attraverso il furto di tutte le account gli accrediti per quanto riguarda appunto l'accesso a determinati siti eccetera quindi la cyber sicurezza interessa diciamo sicuramente gli stati perché mette in sicurezza tutto il patrimonio delle informazioni di ogni stato ma anche quello di ogni singolo cittadino quindi sono corsi anche molto molto interessanti attenzione al comparto dei trasporti perché venerdì è pronta una nuova mobilitazione stranamente il venerdì qualcuno dirà ma come mai è sempre il venerdì e chi lo sa sciopero trasporti mobilitazione venerdì Nero CUB Trasporti Genova e USB Lavoro Privato Genova aderiscono allo sciopero nazionale di 24 ore indetto da CUB COBAS un sacco di sigle e allo sciopero nazionale di 24 ore udetto da USB lavoro privato per l'intera giornata del 15 dicembre AMT fa sapere che a livello provinciale il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l'intera giornata ma ricordiamo che ci sono le fasce di garanzia quelle dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20 il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro quindi dalle 9 alle 16 e 30 e poi si riparla anche del depuratore con un nuovo attacco del comitato che è contro naturalmente l'installazione di questo depuratore non è compito del comitato trovare un sito alternativo sul quale costruire il depuratore di Vallata lo sostiene Andrea Sanguinetti regione, città metropolitana e comuni del lato devono trovare un'alternativa meno impattante e più vicina alle reali esigenze Chiaveri il depuratore ce l'ha sarebbe sufficiente rimodernarlo senza fermarlo quindi si parla di appunto fare delle opere nella zona di Preli dove si trova adesso il vecchio depuratore e andiamo invece a parlare dei balneari proroga concessioni lettera dei balneari condivisa dai sindaci quindi si va verso la proroga almeno di un anno cioè almeno quello che abbiamo visto già nei comuni che lo hanno fatto come Santa Margherita Ligure riunite la Giunta per decidere il rinvio entro appunto il 31 di dicembre Santa Margherita allungato a tutto il 2024 Anelli di Camogli votato per dire sì e poi ancora doppia convocazione del Consiglio Comunale di Sestri Levante scoppia una polemica naturalmente tra maggioranza e opposizione l'Assemblea si riunirà domani alle 20 a l'ora della convocazione rappresenta solo la minoranza al completo del Presidente del Consiglio Gian Paolo Benedetti qualche minuto di attesa per l'arrivo poi del Segretario Generale e qua scoppia la polemica e poi invece Chiara Colombini presenta il suo libro Storia Passionale della Resistenza l'appuntamento venerdì 15 dicembre alle 17.30 Sala Bo di Palazzo Fascia in Corso Colombo a Sestri Levante Colombini presenta Storia della Resistenza appunto e Lampi ha fatto il suo ricordo a Riccio il appunto il partigiano Aldo Valerio relativamente all'attacco delle cosiddette betoline naziste era l'11 dicembre del 1944 Laboratori delle Feste oggi la partenza con il centro Famiglia di Chiavari letture e canzoni sotto l'albero appunto a Chiavari e poi parliamo allora di Natale apriamo una lunga pagina dedicata al Natale addio ai banchetti casalinghi non è proprio così vero adesso il secolo esagera cioè non è che c'è l'addio ai banchetti casalinghi perché moltissime famiglie si riuniranno in casa per celebrare il Natale per festeggiare il Natale però sono molti anche quelli che scelgono il ristorante soprattutto lo diciamo anche coloro che non sono del posto i turisti quindi che arrivano e chiaramente diciamo prenotano il ristorante non fanno il pranzo a casa il Capo Magro sempre re della tavola delle feste insieme ai prodotti a chilometro zero menù gourmet da Davù dallo Splendido Mare di Portofino 250 euro esclusi coperto e bevande ma chiaramente siamo nella piazzetta di Portofino e non è che si può pretendere di spendere di meno e poi a Recco anche qua si va verso il tutto esaurito il 25 nei locali a Recco è un classico e sicuramente molti di noi diranno ma noi stiamo in famiglia perché è chiaro che addio ai banchetti in famiglia è un'esagerazione perché davvero ci sono invece tanti che sicuramente festeggeranno nelle mura domestiche che sono la stragrande maggioranza anche perché diciamoci la verità i ristoranti non basterebbero per contenere tutte le famiglie del nostro territorio e allora andiamo a parlare ancora di eventi legati al Natale intanto partiamo da un evento che ci sarà a Chiavari il Christmas Carols Wheatfield al Monte Rosa toggezza della tradizione l'associazione italo-britannica di Chiavari appunto domani alle 16 farà un appuntamento in perfetto stile British Christmas Style a base di Carols and Mint Spice e poi ancora dialoghi sulla bellezza Brizi al Miramare quindi l'hotel Miramare di Rapallo appuntamento del circolo culturale Fons Gemina e ancora concerto all'annunziata di Sestri Levante c'è il pianista Andrea Barchetti che suonerà appunto molte composizioni per pianoforte alle 21 del prossimo 21 dicembre da Bacca a Chiambretti perché sappiamo che poi è stato spesso ospite delle trasmissioni del presentatore a Ostano e poi ancora camminata invernale dedicata a Maramotti da Ferriere a Lavagna dopo la Marcia Mare della scorsa estate e appunto un appuntamento per gli amanti del trekking in Val Daveto e ancora cattedrale Grimita per la nona sinfonia di Beethoven grande successo 13 minuti di applauso per il capolavoro di Beethoven che è stato eseguito nell'ambito della rassegna dicembre musica a Chiavari un pubblico con molti giovani e i direttori artistici di diversi teatri Liguri e poi ancora serata a CAI di Chiavari con le imprese di Marco Pendola le mie scalate 2023 appuntamento giovedì nella sede di Via Orsi parlando ancora del Natale c'è l'articolo di Mario Dentone la buccia d'arancia sul Ronfò dona il vero sapore al Natale e poi ancora raccolta doni per i bimbi del centro aiuto della vita di Rapallo domani sarà appunto allestito un centro di raccorta nella pasticceria Riviera in Via Libertà dalle 15.30 alle 19.30 chiunque potrà portare il giocattolo in nuovi e usati che poi verranno distribuiti ai bambini che vengono diciamo assistiti con le loro famiglie dal centro aiuto alla vita di Rapallo e Santa Margherita Ligure il ritorno del confuoco con corteo falò e auguri a Sestri Levante ma insomma ormai confuoco in italiano confuoco in dialetto ci sarà in tutte le località praticamente da questo fine settimana in poi e poi auditorium pieno per il cosiddetto meteorologo ignorante Gianfranco Saffioti e poi basta ah no di brin gioco per i piccoli fra erbe racconti a lavagna ma visto che stiamo parlando di appuntamenti andiamo a vedere la nostra agenda appuntamenti in agenda per martedì 12 novembre torna l'appuntamento settimanale con il mercato agricolo chilometro zero e delle autoproduzioni a Sestri Levante in via nazionale zona Tannino dalle 9 alle 13 si potranno acquistare i prodotti del territorio direttamente da contadini e allevatori al cinema con te è la nuova iniziativa di cinema e bistro Sivori a Genova dal 12 al 15 e dal 19 al 22 dicembre con il biglietto speciale a 9 euro dopo la visione del film si potrà consumare un tè e una cioccolata calda al bistro in programmazione per i 12 ci sono un colpo di fortuna di Woody Allen alle 15 e 30 palazzina LAF di Michele Riondino dalle 16 e i limoni d'inverno di Caterina Carone dalle 16 e 30 dalle 15 e 30 nella sala rosa del comune di Savona si terrà l'incontro informativo di sensibilizzazione la figura del tutore volontario con interventi dell'avvocato Guia Tanda garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e responsabile dell'ufficio del garante Dario Archer ricordando Elena Giannini Bellotti una voce coraggiosa attuale dalla parte delle bambine e delle donne è il titolo del convegno che inizierà dalle 16 nella sala chierici della biblioteca Berio di Genova l'incontro a cura di unione donne in Italia vedrà l'intervento di vari ospiti sulla figura della pedagogista e scrittrice nell'ambito dell'undicesima edizione del festival internazionale di musica di Savona alle 21 nella chiesa Sant'Andrea Apostolo di Savona avrà luogo il concerto di Santa Lucia in cui verranno eseguiti per la prima volta i brani vincitori del concorso internazionale di composizione Torre della Quarda ultimo appuntamento per la rassegna cinematografica postmodern dalle 21 al cinema Sivori di Genova sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano il film Arizona Junior dei fratelli Cohen con introduzione di Luca Malavasi docente di storia analisi del film all'Università di Genova Abbiamo visto abbiamo visto prima con il giro della Liguria che ci ha fatto fare Paolo Solari con le nostre webcam Liguri che la situazione è nuvolosa un po' ovunque e in effetti questa nuvolosità è diciamo motivata da una formazione di un minimo orografico sul Mar Ligure e questo minimo questo pomeriggio manderà degli influssi umidi ancora più intensi che porteranno anche alla formazione di fenomeni fenomeni più importanti e significativi nell'entroterra del Levante ma pioverà anche lungo la costa del centro e del Levante mentre invece sul Ponente sono previste localissime schiarite ma sempre in un clima un po' grigio 20 ciclonici moderati tesi dall'Ibeccio con rinforzi al pomeriggio mare mosso sotto costa molto mosso a largo le temperature in quota l'abbiamo visto prima sono in aumento e nel corso di pomeriggio potremo anche toccare 17 gradi sulla costa ma domani le temperature invece saranno in diminuzione domani avremo ancora una giornata caratterizzata da nuvole appunto in particolare proprio sul Levante e Ligure dove non si possono anche escludere precipitazioni a carattere di rovescio più provabile nell'entroterra Tigullino e sullo Spezzino nuvoloso altrove ma con tendenza ad aperture e locali schiarite quindi a Ponente per domani 13 dicembre 20 forti a largo da sud ovest rinforzi di burrasca nel pomeriggio con l'Ibeccio moderato e qualche rinforzo lungo la riviera di Levante mentre 20 saranno irregolari altrove con tendenza a disporsi da nord in serata sul Genovesato mare quindi ne consegue molto mosso ed agitato a largo moto ondose in aumento anche nel corso del pomeriggio fino a molto agitato sull'alto Mar Ligure molto mosso altrove e temperature come abbiamo detto in calo poi nella giornata di giovedì 14 dicembre è previsto anche il ritorno del sole per fortuna ma con temperature che andranno via via calando e molto probabilmente nel weekend toccheremo di nuovo dei valori molto molto rigidi invernali ma di questo parleremo meglio chiaramente domani nei prossimi giorni per il momento ringraziamo Paolo Solari che ha curato la parte tecnica in regia tutti voi che ci avete seguito l'appuntamento con l'informazione locale alle 12.45 con il nostro telegiornale noi ci vediamo domattina a 7.38.10 da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti di un'ottima giornata e di un'ottima giornata a tutti Grazie a tutti.